Allora siamo con Marvin Bruno, ancora ai nostri microfoni. Abbiamo visto nelle ultime puntate numerosi accessori di nuova concezione ed è un'usariente test drive dell'ultimo Suzuki che avete elaborato. Che novità abbiamo in fiera quest'anno? Quest'anno in fiera abbiamo delle novità riguardanti il 4GR. Abbiamo iniziato a studiare prodotti per il 4GR Y60 e Y61. In particolare qui troviamo l'assetto più 10 che abbiamo ideato, studiato, prodotto e tutte le varie componentistiche che ci sono. Quindi le molle più 10 garantite a vita contro lo snervamento con possibilità di colore giallo oppure nero. Ammortizzatori più 10 R4x4. In versione HD, versione rinforzato per poristrada. Abbiamo studiato e prodotto anche puntoni anteriori rinforzati, angolati e corretti per un assetto a partire dai 7-8 cm fino a un 15 cm. Ideali chiaramente per il nostro più 10, bracci posteriori regolabili con unibol rinforzati superiori e anche i puntoni posteriori sempre rinforzati e regolabili con Johnny Joint. Tubi dei freni maggiorati più 10 cm in treccia aeronautica come tutti gli altri tubi che produciamo. Poi abbiamo in questa esposizione anche dei distanziali da 38 mm montati e barre fanard anteriore e posteriori rinforzate e regolabili, sempre di nostra produzione e prodotti nella nostra fabbrica. Una protezione del ponte anteriore, paradifferenziale e paraponte anteriore, sempre del patrol e ammortizzatore di sterzo disponibile sempre per patrol GR Y60 e Y61. Alberi di trasmissione anteriore e posteriore sia per patrol GR Y60 che per patrol GR Y61. Doppia crociera e singola anteriore e doppio doppio giunto per il posteriore. Tutto super rinforzati, made in Italy, concepiti e studiati da Raptor 4x4. Per qualsiasi informazione riguardante i nostri prodotti visitate il nostro sito www.raptor4x4.it dove trovate spiegazioni, schede tecniche, immagini dettagliate di tutti i nostri prodotti e potete anche ovviamente effettuare acquisti online.